Salve a tutti, vediamo come realizzare su AutoCAD il logo LG. Inizierò il disegno nella vista dall'alto andando a rappresentare due cerchi. Il primo con diametro 84 che vediamo quotato qui e il secondo con diametro 70.8. Quindi una volta avviato AutoCAD clicchiamo su Inizia disegno, disattiviamo la griglia e attiviamo orto e dalla scheda disegna richiamiamo il comando cerchio centro diametro. Cliccando in un punto a caso, specifichiamo il centro e andiamo a digitare come diametro 84 e premiamo invio. Con la rodellina del mouse possiamo andare a zoomare, di nuovo comando cerchio centro diametro, ci avviciniamo alla circonferenza al cerchio per trovare lo snap centro, ci clicchiamo su e andiamo a digitare 70.8. Il terzo cerchio che è questo qui non ha quotato qui sul nostro disegno la misura del diametro ma sappiamo che è distante 3.5 rispetto praticamente a questo che abbiamo disegnato in precedenza. Quindi io andrò a fare semplicemente un offset a distanza 3.5. Quindi dalla scheda edita digito, clicco su offset, il quale mi chiede di digitare la distanza di offset 3.5, invio e andrò a creare un cerchio praticamente concentrico però praticamente con il raggio di 3.5 mm più piccolo e clicco ovviamente verso l'interno, perfetto. Una volta fatto questo mi avvicino sempre alle circonferenze, clicco nel centro e decido di andare a rappresentare una linea che parte dal centro e sale di 18.4 che è la metà di 36.8. Quindi potete andare a fare o una linea che va verso l'alto di 18.4 e una che va verso il basso sempre partendo dal centro di 18.4 o come farò io invece che ne creerò solo una e poi la stirerò di 18.4 ottenendo un'unica linea di 36.8. Quindi 18.4, clicco, primo ESC, poi clicco sulla linea, prendo questo quadratino e scendo di altri 18.4 ottenendo così un unico elemento. Come vedete se ci clicco su è un unico elemento. Adesso sappiamo che questa parte della L, di LG, è larga praticamente 3.5 e quindi io farò, trovandomi al centro, farò l'offset della metà di 3.5. Quindi 1.75 a destra e 1.75 a sinistra. Quindi offset, 1.75 invio, prendo la linea e clicco a destra, prendo la linea centrale e clicco a sinistra. Possiamo già andare a chiudere qui sopra con una linea. Perfetto. Da questo punto invece, praticamente dal punto finale della linea che si trova a sinistra, ci spostiamo verso destra di 12, saliamo di 3.5 e andiamo a chiudere fino al punto perpendicolare, perché io attivo lo snap perpendicolare, andando a creare la lettera L. Questa qui. Adesso da questo punto, da questo spigolo qua, mi sposterò di 12 fino a trovare questo punto, cioè il quadrante di questo cerchio, che ha diametro 10. Pertanto se io scendo verso il basso di 10, troverò quest'altro quadrante. Sfrutterò questi due punti per andare a realizzare un cerchio passante per due punti. Quindi, linea, da questo spigolo vado a sinistra di 13.5, premo invio, scendo di 10, premo invio, cerchio passante per due punti, primo punto e secondo punto. È ovvio che questa linea e questa linea possono essere cancellate, anche questa qui possiamo cancellarle tutte. taglia, invio, andiamo a tagliare questa parte della L. Andiamo a vedere la G. Allora, innanzitutto la G dobbiamo chiuderla qui, la prima parte, diciamo la parte superiore. Quindi io mi riporterò questo punto più su, con una linea. Quindi comando linea, clicco qui e salgo un po' di più, senza beccare nessuno snap. Tanto poi qua vado a tagliare, successivamente ovviamente. Vediamo come chiudere qui. Qui invece io andrò a creare praticamente una linea da quadrante fino all'altro quadrante. Farò l'offset a distanza 1.75 verso l'alto e poi praticamente la stirerò fino ad incontrare una linea che creerò qui e che poi andrò a tagliare. Quindi, linea, creiamo una linea da quadrante a quadrante. Offset 1.75 invio e la spostiamo più su. Quella di sotto potete già cancellarla. Dopodiché fate lo zoom. È ovvio che qui dovete andare fino a questo punto e qui fino a quest'altro. Tanto questa va poi anche allungata di più. Comando linea, di qua saliamo. Come vedete l'ho superata abbondantemente. Tanto poi anche questa viene tagliata. Riprendiamo questa, prendiamo questo quadratino e andiamo fino a questo punto. Offset di 3.5 invio, prendo questa e scendo. Come vedete taglia, invio, vado a tagliare questo, questo, questi due, vado a rifinire questa parte andando a tagliare. Taglio questo e infine taglio questo qui. Lo possiamo direttamente accorciare. Ok. Adesso dobbiamo fare il tratteggio. Come lo andiamo a fare? Ovviamente di bianco questi tre elementi, queste tre aree. Quindi dalla scheda disegna attivo il comando tratteggio. Impostiamo solido. Usa corrente va già bene perché l'ha già impostato il bianco. Clicco qui dentro, qui. E all'interno della L. Chiudi creazione tratteggio. Ripeto il comando. Però in questo caso andiamo a scegliere da altri colori. Un colore che magari si adatta un po' meglio. Vediamo. Questo è troppo rosso. Ci spostiamo in quest'altra scheda. Modifichiamo un po' il colore. Clicchiamo all'interno dell'area. Chiudi creazione tratteggio. Perfetto. A breve seguirà un altro video con un disegno 3D un po' più complesso. E questo è stato un po' più complesso.